quindi scarico nere fatte che quello più importante perché dove andremo è più difficile trovare le nere che le grigie il carico e le grigie è che facilissimo il nere un po più complicato no che sia difficile che sia introvabile ma è più complicato quindi andiamo a fare un po di spesa prima di entrare in ok fatta la spesa l'idol a copenhagen 233 corone all'incirca 30 31 euro o di roba l'abbiamo presa quindi si vola sul mare ah forse è stata ieri una giornata così orca miseria questa è la spiaggia che dà sul mare del nord mentre il mar baltico sarebbe dalla parte opposta del ponte questo faccio uno strappo mi fermo faccio una ripresa così non è la solita monotona il ponte di orisund è una tratta stradale ferroviaria di circa 16 chilometri che collega la città di copenhagen danimarca e malmo svezia realizzata tramite tunnel sottomarino e ponte congiunti in un'isola artificiale appositamente creata che attraversano l'omonimo stretto quindi si effettua il primo pezzo sotto lo stretto e il secondo pezzo invece sopra sul ponte ed è più grande rispetto all'altro almeno più maestoso anche se ha meno tralicci evidenti quindi abbiamo il ponte che unisce danimarca e svezia e divide letteralmente alla nostra sinistra il mare del nord alla nostra destra il mal baltico è il ponte stralato più lungo d'europa adibito sia al traffico stradale che ferroviario con una campata centrale di 490 metri fu inaugurato il primo luglio del 2000 alla presenza del re di svezia carlo xVI gustavo e della regina di danimarca margherita seconda quindi benvenuti in svezia amici il design del ponte è opera dello suddanese di architettura di sim wetling la prima città che incontrerò uscendo dal ponte sarà malmo ma io dovrò andare dritto non mi fermo per visitare questa cittadina ma vi porterò in uno spot molto molto bello lo scopriremo quando arriviamo grazie a tutti passata anche la dogana che non c'è e quindi ufficialmente siamo in svezia prima impressione autostrade tenute decentemente logicamente cambiano i colori dei cartelli è la prima il primo shop che vedo che cos'è è l'ikea una mega ikea qui a 10 minuti dalla fine del ponte ingresso in svezia qualche problema con maps io sto usando maps e non google maps perché maps lo trovo più di sostegno parte che ti dice anche cosa devi fare google maps la maggior parte delle volte non me lo dice quindi maps mi anticipa eventualmente il tragitto non so cosa devo fare quindi sto trovando maps molto molto utile una cosa a cui ci si deve abituare già dal nord della germania già da burgo è che di giorno fa molto caldo arriviamo 25 27 gradi mentre di notte scendiamo intorno ai 10 quindi escursione termica è molto elevata quasi quasi come l'afghanistan paese a caso salvo cambiamenti di ultimo momento siamo a 620 km da stoccolma sono 625 km da stoccolma che è una tappa che molto probabilmente farò quindi per adesso stiamo percorrendo l'interno direzione stoccolma ma la location la vedrete voi tra poco io fra un paio d'ore rispetto alle autostrade fatte sino alla danimarca traffico camion e traffico in generale questo primo pezzo non è vero quindi molto più rilassante molto più libera e più godibile come strada e come panorama come in danimarca sulle autostrade in svezia i distributori non sono a ridosso dell'autostrada ma bisogna uscire si trovano solitamente a circa un chilometro dall'autostrada mentre in autostrada troviamo come da avvertito le aree sosta dove sono i bagni e le piazzole attrezzate insomma per fare i biglietti la storia di un viaggio è raccontare le emozioni, raccontare quello che si vede, come si percepisce raccontare i propri stati d'animo, stati fisici, fare i conti con gli imprevisti che sono capitati e che capiteranno e quindi imparare ad affrontare le situazioni belle e brutte in una maniera più serena questo è il viaggio itinerante ma anche il viaggio in sé chiunque faccia un viaggio deve vivere in questa maniera o dovrebbe vivere in questa maniera cercare di assaporare tutto quello, di rubare tutto quello che si riesce dai posti metaforicamente parlando logicamente io adoro viaggiare, adoro guidare, stanca ma c'è una grossa ricompensa stare al volante e scoprire il mondo io sono originario di un paesino del nord-nordovest della Sardegna uscire in posti che per tante persone sono irraggiungibili e portare avanti con orgoglio la bandiera della Sardegna farla sventolare in tutte le strade del mondo o dovunque noi andremo o dovunque io andrò è un orgoglio portare in giro la nostra bandiera bandiera dell'Italia ma la bandiera della Sardegna insomma siamo arrivati a Copenhagen abbiamo portato un brutto tempo siamo andati via oggi e c'era una bellissima giornata andati in Svezia c'era una bella giornata e adesso si sta mettendo male poco a poco che porto male? ma penso di no spero dai una bella giornata estiva sky al prossimo mi fermo ho scoperto che il signorino quando non ci sono e lo lascio in camper non sta nel tappetino in gel nel tappetino nella copertina che le lascio sul pavimento ma si mette sotto i miei piedi qua alla guida l'ho scoperto perché stamattina le pulizie prima di partire con l'aspirapolvere era pieno di peli quindi pur di sentire il mio odore presente fisso si è messo qua se mentre guidate vedete degli alberi con delle buste nere appese vuol dire che ci sono degli alci quindi gli allevatori per avvisare gli automobilisti, i passanti che ci può essere l'attraversamento, la presenza di questi animali vengono appese queste buste o nelle recensioni o negli alberi la città del marcio in svezia c'è freddo io sono nuovamente col giubbotto perché le temperature sono molto basse per noi il posto, l'area di servizio è molto accogliente dai sky che avrei anche fame io se finisci di spisciottare mangiamo devi far entrare adesso ho capito, in mezzo al bosco dai te ne faccio conoscere un altro di posto non ti preoccupare stai cercando il luogo dove evacuare perché il nostro sky è educato qui ci sono 23 gradi ma io ho freddo c'è quest'aria fresca questo sta boccheggiando ma vai esagerati io o tu chi è esagerato sky? chi è esagerato sky? chi c'è? c'è il nostro camperozzo lì bello eh? piccolo ma bello piccolo minimalista mai pulito qui abbiamo il sapone l'acqua è stato automatizzato, bellissimo fatta dal gesso in svezia cioè io dentro così ho questo qui questo va quella accesa questo acceso è boccheggia che cazzo boccheggi che cazzo boccheggi che cazzo boccheggi vai sono dei numeri delle regioni delle particolarità di quel posto in svezia invece c'è il cartello del comune presumo perché è scritto comune quindi vedo che ogni tanto c'è il nome e sotto scritto comune quindi penso che sia la zona, il comune, la provincia insomma la località che stiamo attraversando è tanto piove siamo nel comune della zona dove andremo a stare stasera ho visto una femmina di alce che stava brucando era sul bordo letto dall'altra parte della strada che bella speriamo di riuscire a vederla dove andiamo che essendo posto nella natura speriamo che ci siano e riescano a vederli penso che più avanti più andiamo verso il nord più sarà possibile vedervi anche vicino alla strada non c'è per noi che viaggiamo 4G un'attacca vediamo come viaggia vediamo di cambiare anche magari il server siamo arrivati siamo arrivati nella nuova destinazione di oggi un bel parco adesso facciamo scendere Sky ci facciamo una bella passeggiata sotto la pioggia uggiosa sotto questo tempo uggioso non la pioggia uggiosa prima di liberarti vediamo un attimino cosa ci dicono qua cercano di capire qualcosa dello svedese Naturpass che bene il viaggio quindi presumo che questa è la parte di fauna che si trova qua qui la quello qua Jung by Common andiamo a vedere andiamo a vedere cosa è importante abbiamo i cestini differenziata vi faccio vedere cosa c'è qui dietro guardate cosa ci si presenta davanti ma che posto è bellissimo no ma figata queste non so se sono tipo gli edifici dei guardi a boschi o qualcosa del genere a parte che sono contento è uno dei pochi posti dove diciamo che adesso non c'è nessuno e Sky può scorazzare come vuole senza andare in acqua vieni qua vieni qua che ci manca solo che ti bagno oggi sarebbe interessante capire cosa vuol dire finish to gun e poi lo traduciamo allora sicuramente nel montaggio vedrò di riuscire a recuperare il significato perché poi non si capisce bene se è un'abitazione io penso che sia una sorta di rifugio sta iniziando a originale mi sa che noi ci rintaniamo con la grande gioia di Sky ma io acqua ne ho preso abbastanza ieri non voglio riprendere neanche oggi tanto avremo modo di vedere il posto stamattina andando via da Copenhagen ho fatto lo scarico delle nere perché lo stavo leggendo ieri che in Svezia è molto più complicato trovare lo smaltimento delle acque nere mentre per le grigie e per il carico acqua non c'è problema come è difficile trovare sempre letto acqua naturale nei supermercati ma si trova specialmente soprattutto l'acqua gasata perché l'acqua naturale è buonissima quella delle fonti dove si fa anche il carico dell'acqua quindi quel tipo di acqua è potabilissima anzi definisco un'eccellente andiamo Sky Sky il campo è rozzo con la bandiera la bandiera di Faro e della Saldegna i quattro mori anche in Svezia visto che sta piovendo ne approfitto e inizio a montare il nuovo video dimenticavo in Danimarca ho fatto gasolio a 1,50 in Danimarca ho fatto gasolio a 1,59 1,60 vicino a Copenaghen in Svezia il prezzo che trovo sino adesso è 21,99 corone svedesi pari a circa 1,85 quindi siamo a 25 30 centesimi di rincaro sul litro del gasolio è un rovescio però senza temporale quindi fa anche compagnia l'acqua è un rovescio Il posto del genere ti trasmette una tranquillità Spero che non mi esca un alce, un orso E comunque in Svezia ci sono gli orsi Dici che devi fare più grande di quello che sei Beh anche l'alce io non ci ho mai avuto a che fare Quindi il comportamento normale può essere sbagliato Dovrò documentarmi Questa è una Pasqua Sky è troppo felice Voi mi vedete in giubbotto Ci sono 21 gradi più o meno Sky sta bene C'era una signora che stava facendo il bagno nel lago Molte volte mi viene da pensare quando vediamo le persone dell'Africa da noi Che in certi periodi dell'anno noi siamo a un magliettina E loro sono col giubbotto e sono coperti Ognuno è abituato al suo stato, alla sua zona E quindi per adattarsi è difficile subito Quindi è anche difficile capire come fanno gli altri Che pace mamma, che pace Certo uscire da Copenanghe Ieri Copenanghe ieri sera Sì, fino a mezzanotte e mezzo Luna Era una musica Un batti suoni E arrivare qua È una cosa completamente diversa Ti rigenera proprio Bello Bello You say he broke the law I say I've never seen him smile In spite of me Lay Baby Lay I'm thinking of the right Words To say So here he Ho scritto Benvenuti alla cottage finlandese Che è gestito da questo Freeloof Sklubbenfin Deve essere o la persona o l'associazione Che gestisce questo cottage Vai 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 Dove? È qua Guarda È qui È qui È qui È qui È qui Vai Vai Che mio Vai Che è bello Vedalo così Quindi C'è attenzione Che il legno È proprietà privata Di utilizzo privato Quindi Che non si può toccare Logicamente Qui Non si tocca Sky Sky It's pioving Guardiamo Guarda 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 È già stanco Un'altra Siamo Ah Ragazzi mi sposto a malincuore ma mi sposto anche questa volta perché mi serve interesse c'è un'attacca scarsa scarsa di 4 g ma non naviga assolutamente nulla quindi può essere farlocca non è veritiera e quindi vado ci sono altri spot lungo il questo questo lago e alla malparata invece finisco nuovamente, cioè finisco in paese, non nuovamente finisco nel paese, sono già due tacche qua, vediamo un po' grazie a tutti era un posto bellissimo anche questo ma purtroppo a me serve urgentemente internet stasera e qui sembrava che era buono fosse buono, due tacche alla fine andate a degradare, adesso ciò è, è assolutamente improponibile e scendiamo il paese allora, è l'unica soluzione, sperando che ci sia linea perché se non ci siamo ancora lì a quel punto o attorno qua grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti